10. 10.17. MDT. Earth House. Altri velivoli nemici non identificati in arrivo da ore 10, disse Lombard mentre il radar girava di nuovo e i puntini verdi lampeggiavano sullo schermo. 12 diretti a sud-est a 4.000 metri di quota! Gesù Cristo, guardate come si muovono quegli stronzi! Dopo 30 secondi, i segnali erano usciti dalla portata del radar. Altri cinque in arrivo, colonnello! La voce di Lombard tremava per un misto d'orrore ed eccitazione e aveva il volto dalla mascella pesante arrossato e gli occhi erano spalancati dietro agli occhiali in stile aviatore. Si dirigono verso Nord-Ovest a 5.000 metri! Sono i nostri! Forza, ragazzi! Il sergente Becker fece un urlo e si batte un pugno sul palmo aperto. Cancellate Ivan dalla mappa! Gridò. Dietro di lui, il capitano Warner stava fumando un sigaretto con il filtro e guardava impassibile lo schermo radar con l'occhio buono. Un paio di altri tecnici in uniforme teneva d'occhio il radar perimetrale. Dall'altro lato della stanza, il sergente Shore era accasciato su una sedia, con gli occhi vitrei e increduli e di tanto in tanto il suo sguardo torturato cadeva sullo schermo radar principale e poi tornava rapidamente a un punto del muro di fronte a lui. Il colonnello Macklin si trovava dietro alla spalla destra di Lombard, con le braccia incrociate sul petto e l'attenzione concentrata sui puntini verdi che si muovevano sullo schermo da 40 minuti. Era facile dire quali fossero i missili russi, perché si dirigevano verso sud-est, su traiettorie che li avrebbero portati a schiantarsi sulle basi aeree del Midwest e sulle installazioni ICBM. I missili americani volavano verso nord-ovest, verso appuntamenti mortali con Mosca, Magadam, Tomsk, Karaganda, Vladivostok, Gorky e cento altri bersagli costituiti da città e basi missilistiche. Il caporale Prados indossava le sue cuffie e teneva sotto controllo i deboli segnali che ancora arrivavano dalle stazioni radio a onde corte nel paese. «Il segnale da San Francisco si è appena spento», disse. Le ultime parole erano della KXCA di Sausalito. Qualcosa a proposito di una palla di fuoco e lampi blu, il resto era confuso. «Sette in arrivo da ore undici», disse Lombard. «Tremila seicento metri! Direzione sud-est!» «Altri sette», pensò Macklin. «Mio Dio». Quello portava a 78 il numero di messaggi in arrivo individuati dal radar del Blue Dome e solo Dio sapeva quante centinaia, forse migliaia erano passate in alto oltre la portata del radar. A sentire i rapporti atterriti degli operatori radio a onde corte, le città americane erano incenerite in un attacco nucleare su vasta scala. Ma Macklin aveva contato anche 44 messaggi in uscita, diretti verso la Russia. E sapeva che contro l'Unione Sovietica si stavano lanciando migliaia di ICBM, missili cruise, bombardieri B-1 e missili nucleari stazionati su sottomarini. Non importava chi aveva iniziato. Tutte le discussioni erano finite. Adesso importava solo chi aveva la forza per sopportare più a lungo i colpi atomici. Era stato dato l'ordine di sigillare Earth House quando Macklin aveva visto i primi puntini dei missili sovietici sullo schermo radar. Le guardie perimetrali erano state fatte rientrare. La porta di roccia era stata abbassata e bloccata. Il sistema di paratie a griglia era stato attivato nei condotti di ventilazione per impedire l'ingresso di polveri radioattive. C'era solo un'ultima cosa da fare. Dire ai civili dentro Earth House che era iniziata la terza guerra mondiale. Che probabilmente le loro case e i loro parenti erano già stati vaporizzati, che tutto quello che avevano conosciuto e amato avrebbe potuto benissimo essere scomparso nell'esplosione di una palla di fuoco. Macklin aveva ripetuto già molte volte la situazione nella sua mente. Avrebbe radunato i civili nel municipio e avrebbe spiegato loro con calma cosa stava accadendo. Loro avrebbero capito che dovevano restare lì, dentro al monte Blue Dome, e che non sarebbero mai più potuti tornare a casa. Poi avrebbe insegnato loro disciplina e controllo. Avrebbe formato delle dure armature su quei soffici e molli corpi da civili e avrebbe insegnato loro a pensare come guerrieri. E da quella fortezza imprendibile avrebbero respinto gli invasori sovietici fino all'ultimo respiro e all'ultima goccia di sangue, perché lui amava gli Stati Uniti d'America e nessun uomo lo avrebbe mai fatto inginocchiare e implorare. Colonnello! Uno dei giovani tecnici alzò lo sguardo dal suo schermo del radar perimetrale. Ho un veicolo in avvicinamento. Sembra un camper dannatamente veloce, che risale la montagna. Macklin si avvicinò per guardare il segnale luminoso a avvicinarsi lungo la strada di montagna. Il camper stava andando così veloce che il guidatore correva il rischio di catapultarlo direttamente oltre il Blue Dome. Macklin era ancora in condizione di aprire il portale d'ingresso e far entrare il camper, usando un codice che avrebbe scavalcato il sistema di chiusura computerizzato. Immaginò che nel veicolo ci fosse una famiglia terrorizzata, forse una famiglia di Idaho Falls o di una delle comunità più piccole alla base della montagna. Vite umane, pensò Macklin, che lottavano per evitare l'annullamento. Guardò il telefono. Digitare il suo codice identificativo e pronunciare il codice nel ricevitore avrebbe fatto annullare al computer la chiusura e alzare il portale d'ingresso. Se l'avesse fatto, avrebbe salvato la vita di quella gente. Allungò una mano verso il telefono, ma dentro di lui qualcosa si mosse. Una cosa pesante, oscura e invisibile, che si muoveva come se fosse sul fondo di una palude primitiva. «Aspetta!» Il sussurro del soldato ombra era come il sibilo della miccia di un candelotto di dinamite. «Pensa al cibo! Più bocche, meno cibo!» Macklin esitò con le dita a pochi centimetri dal telefono. «Più bocche, meno cibo! Disciplina e controllo! Datti un contegno, signore!» «Devo farli entrare», si sentì dire Macklin, e gli altri uomini nella sala di controllo lo fissarono. «Non rispondermi con insolenza, signore! Più bocche, meno cibo! E tu sai tutto su cosa accade quando un uomo ha fame, vero?» «Sì», sussurrò Macklin. «Signore?» chiese il tecnico. «Disciplina e controllo», rispose Macklin con voce impastata. «Colonnello!» Warner afferrò la spalla di Macklin. Macklin sussultò come se si fosse svegliato da un incubo. Guardò gli altri intorno a lui, poi di nuovo il telefono e abbassò lentamente la mano. Per un secondo era stato nuovamente nel pozzo, nel fango, nella merda e nell'oscurità. Ma ora stava bene. Sapeva dove si trovava adesso. Certo, disciplina e controllo risolvevano tutto. Macklin si divincolò dalla presa del capitano Warner e guardò il segnale lampeggiante sullo schermo del radar perimetrale con occhi socchiusi. «No», disse. «No. Arrivano tardi. Molto tardi.» Earth House resta sigillata e si sentì dannatamente orgoglioso di se stesso per aver preso una decisione da uomo. C'erano più di 300 persone in Earth House, senza contare gli ufficiali e i tecnici. Più bocche, meno cibo. Era sicuro di aver fatto la cosa giusta. «Colonello Macklin!» chiamò Lombard con voce rotta. «Guardi qua!» Subito Macklin fu al suo fianco e guardò lo schermo. Vide un gruppo di quattro missili passare nel raggio del radar, ma uno di essi sembrava più lento degli altri. E mentre quello arrancava, gli altri tre sparirono oltre il monte Blue Dome. «Che succede?» «Quello è a 6.800 metri!» disse Lombard. «Pochi secondi fa era a 7.600! Credo stia cadendo!» «Non può cadere! Non ci sono bersagli militari nel raggio di 170 chilometri!» scattò il sergente Becker, facendosi avanti per vedere. «Controlli di nuovo», disse Macklin a Lombard. con la voce più calma che riuscì a produrre. Il braccio del radar girò con lentezza agonizzante. «6.100, signore! Può essere un malfunzionamento! Il bastardo sta venendo giù! Merda! Mi dia un punto d'impatto!» Spiegarono una mappa plastificata dell'aria intorno al monte Blue Dome e Lombard si mise al lavoro con il compasso e il goniometro, calcolando e ricalcolando angoli e velocità. Le sue mani tremavano e dovette ricominciare più di una volta. Alla fine disse «Sopererà la montagna, signore, ma non so che effetti avrà la turbolenza qua sopra. Secondo me impatterà proprio qui!» e batte con il dito in un punto a più o meno 16 chilometri a ovest del Little Lost River. Controllò di nuovo lo schermo. «È appena sceso sotto i 5.500, signore! Sta venendo giù come un broken narrow!» Il capitano Teddy Berwarner grugnì. «Ecco la tecnologia di Ivan!» disse, tutta incasinata. «No, signore!» Lombard si girò sulla sedia. «Non è russo! È uno dei nostri!» Sulla stanza cadde un silenzio elettrico. Il colonnello Macklin lo infranse espirando. «Lombard, che diavolo sta dicendo?» «È un missile amico!» ripetè. «Si stava muovendo verso Nord-Ovest prima di finire fuori controllo. Dalla dimensione e dalla velocità direi che si tratta di un Minuteman 3, forse un Mark 12 o 12A!» «Oh, Gesù!» sussurrò Ray Becker, con il volto rosso diventato cinereo. Macklin fissò lo schermo radar. Il puntino fuggiasco sembrava diventare più grande. Si sentì le viscere come se fossero legate da fasce di ferro. E sapeva cosa sarebbe accaduto se un Minuteman Mark 12A fosse caduto a meno di 80 chilometri dal monte Blue Dome. Il Mark 12A portava tre testate nucleari da 335 chilotoni, una potenza sufficiente per cancellare 75 Hiroshima. I Mark 12, con un carico esplosivo di tre testate da 170 chilotoni, sarebbero stati quasi altrettanto devastanti. Ma ad un tratto Macklin pregò che si trattasse solo di un Mark 12, perché forse, solo forse, la montagna avrebbe potuto resistere a quel genere di impatto, senza trasformarsi in macerie. «È appena sceso a meno di 4.800, colonnello!» Solo 1.500 metri, sopra la cima del monte Blue Dome. Sentiva che gli altri uomini lo guardavano, in attesa di vedere se fosse fatto di ferro o argilla. Non c'era nulla che lui potesse fare adesso, tranne pregare che il missile cadesse oltre il Little Lost River. Sulla sua bocca si delineò un sorriso amaro. Il suo cuore batteva all'impazzata, ma la sua mente era salda. Disciplina e controllo, pensò. Erano quelle le cose che facevano un uomo. Earth House era stata costruita lì, perché nelle vicinanze non c'erano bersagli sovietici, e tutti i grafici del governo mostravano che il movimento dei venti radioattivi sarebbe stato diretto verso sud. Non avrebbe mai sognato nemmeno nei suoi sogni più sfrenati che Earth House sarebbe stata colpita da un'arma americana. Non è giusto, pensò, e quasi ridacchiò. Oh no, non è affatto giusto. Quattromila metri, disse Lombard con voce tesa. Fece rapidamente un altro calcolo sulla mappa, ma non disse cosa aveva scoperto, e Macklin non glielo chiese. Il colonnello sapeva che avrebbero subito uno scossone infernale, e stava pensando alle crepe nei soffitti e nelle pareti di Earth House, a quelle fenditure, e ai punti deboli e marci di cui quei figli di puttana dei fratelli Osley avrebbero dovuto occuparsi prima di aprire quei sotterranei. Ma adesso era tardi. Troppo tardi. Macklin fissò lo schermo con occhi socchiusi, e sperò che i fratelli Osley avessero sentito friggere la loro pelle prima di morire. «3700, colonnello!» Shore emise un piagnucolio spaventato e si tirò le ginocchia al petto. Guardava nel vuoto come un uomo che vedeva allora il luogo e le circostanze della sua morte in una sfera di cristallo. «Merda», disse Warner piano. Fece un altro tiro dal suo sigaro e lo spense in un posacenere. «Immagino sia meglio se ci mettiamo comodi, eh? Quei poveri bastardi al piano di sopra saranno sbattuti qua e là come delle bambole di pezza. Si schiacciò in un angolo, premendo contro il pavimento con mani e piedi. Il caporale Prados si tolse le cuffie e si appoggiò al muro, con perle di sudore che gli scintillavano sulle guance. Becker era in piedi accanto a Macklin, che guardava il puntino in avvicinamento sullo schermo di Lombard e contava i secondi all'impatto. «3400!» Le spalle di Lombard si ingobbirono. «Ha superato il Blue Dome! Sta viaggiando verso nord-ovest! Credo ce la faccia ad arrivare al fiume! Vai, bastardo, vai!» «Vai!» sussurrò Becker. «Vai!» disse Prados e stringse forte gli occhi. «Vai! Vai!» Il puntino era sparito dallo schermo. «L'abbiamo perso, colonnello! È sceso sotto la portata del radar!» Macklin annui, ma il missile stava ancora cadendo verso la foresta lungo il Little Lost River e il colonnello stava ancora contando. Tutti loro sentirono un ronzio, come uno sciame enorme e lontano di calabroni. Poi, il silenzio. Macklin disse. «Aimpat!» L'istante dopo. Lo schermo radar esplose di luce. Con gli uomini intorno a esso che gridarono e si schermarono gli occhi, Macklin fu momentaneamente accecato dal bagliore e sapeva che il radar in cima al Blue Dome era appena stato incenerito. Gli altri schermi radar brillavano come soli veri e si spensero quando furono colpiti dal lampo. Il rumore dei calabroni era nella stanza e scintille blu schizzarono fuori dal pannello di controllo quando i circuiti bruciarono. «Tenetevi!» gridò Macklin. Il pavimento e le pareti tremarono, con un puzzle di crepe che si rifondeva sul soffitto. Nella stanza cadero polvere di roccia e ciottoli e le pietre più grandi crollarono sui pannelli di controllo come chicchi di grandine. Il pavimento si sollevò con violenza sufficiente da far cadere in ginocchio sia Macklin che Becker. Le luci sfarfallarono e si spensero, ma entro pochi secondi si era acceso il sistema di illuminazione d'emergenza e la luce tornò più forte e luminosa, lanciando ombre più profonde di prima. Ci fu un ultimo debole tremore e un'altra pioggia di polvere e pietre. Poi il pavimento restò fermo. I capelli di Macklin erano bianchi per la polvere e il suo volto era coperto di sabbia e graffiato. Ma il sistema di filtraggio dell'aria stava pulsando, aspirando già la polvere nelle bocche di ventilazione sulle pareti. «State tutti bene?» gridò tentando di mettere a fuoco la vista oltre l'alone verde che era rimasto nei suoi occhi. Sentì qualcuno tossire e singhiozzare. Pensò dovesse trattarsi di Shore. «State tutti bene?» ottenne una risposta da tutti, tranne che da Shore e da uno dei tecnici. «È finita!» disse. «Ce l'abbiamo fatta! Siamo a posto!» Sapeva che ci sarebbero state ossa rotte, commozioni cerebrali e casi di shock tra i civili al livello superiore e probabilmente in quel momento erano nel panico, ma le luci erano accese, il sistema di filtraggio stava pompando e Dorthaus non era caduta a pezzi come un castello di carte in un forte vento. «È finita! ce l'abbiamo fatta!» Sbattendo ancora le palpebre per superare l'alone verde, si alzò in piedi a fatica. Dai suoi denti serrati sfuggì una corta e vuota risata e poi la risata gli straripò dalla gola e rise sempre più forte perché era vivo e la sua fortezza era ancora in piedi. Il suo sangue era di nuovo bollente e cantava, come era accaduto nelle giungle fumanti e nelle pianure aride di campi di battaglia stranieri. Su quei campi di fuoco il nemico indossava la faccia di un diavolo e non si nascondeva dietro la maschera di psichiatri dell'aviazione, esattori delle tasse, ex mogli tramanti e soci d'affari disonesti. Lui era il colonnello Jimbo Macklin e camminava come una tigre, magro e cattivo, con il soldato ombra al suo fianco. Aveva battuto ancora una volta la morte e il disonore. Sorrise, con le labbra bianche per la polvere. Poi però si udì un suono, come un tessuto lacerato tra mani crudeli. La risata del colonnello Macklin si spense. Si strofinò gli occhi, sforzandosi di attraversare la lune verde e alla fine fu in grado di vedere da dove proveniva quel rumore. Il muro davanti a lui si era ricoperto di migliaia di minuscole crepe collegate. Ma in cima a esse, dove il muro incontrava il soffitto, si stava aprendo un'enorme lesione, a scatti e salti, procedendo a zigzag, e rivoli di acqua scura e dall'odore disgustoso scendevano lungo il muro come se fosse sangue che usciva da una ferita mostruosa. Il suono lacerante raddoppiò e triplicò. Si guardò i piedi. Scorse un'enorme fenditura che si stava allungando sul pavimento. Una terza crepa serpeggiò sul muro opposto. Sentì Becker urlare qualcosa, ma la voce era alterata e a rallentatore, come se l'avesse sentita in un incubo. Blocchi di pietra cadevano dal soffitto strappando le piastrelle e altri flussi d'acqua iniziarono a riversarsi da lì. Macklin sentì un nauseante odore di fogna, e mentre l'acqua gli gocciolava addosso, si rese conto della verità. Che da qualche parte, nella rete di tubi, il sistema fognario era esploso, forse settimane o mesi prima, e il liquame fuoriuscito non si era raccolto solo sopra il primo livello, ma anche tra i livelli uno e due, erodendo ulteriormente la roccia instabile e troppo sollecitata che teneva insieme il complesso di Earth House. Il pavimento si inclinò a un'angolazione che fece perdere l'equilibrio a Macklin. Lastre di pietra sfregavano l'una contro l'altra, producendo un rumore di potenti mandibole, e quando le crepe zigzaganti si unirono, un torrente di acqua marcia e roccia cadde dal soffitto come una cascata. Macklin cadde su Becker e colpì il pavimento, sentì urlare Becker, e quando si voltò lo vide cadere in un crepaccio frastagliato che si era aperto nel pavimento. Le dita di Becker afferrarono l'orlo, e poi i due lati del crepaccio si richiusero di scatto. E Macklin guardò inorridito mentre le dita dell'uomo esplodevano come salsicce troppo piene. L'intera stanza era scossa con violenza, come una camera in una bizzarra casa di divertimenti di carnevale. Pezzi del pavimento collassarono, lasciando crateri aperti che piombavano nell'oscurità. Shore gridò e scattò verso la porta, saltando una buca che si aprì sul suo percorso, e quando l'uomo sbucò nel corridoio, Macklin vide che anche le pareti del corridoio erano venate di profonde fessure. Stavano cadendo enormi blocchi di roccia. Shore scomparve nella polvere vorticante con il suo urlo che diecheggiava dietro di lui. Il corridoio tremò e si contorse con il pavimento che oscillava su e giù, come se le sbarre di ferro di rinforzo si fossero trasformate in gomma. E tutto intorno, nelle pareti, nel pavimento e nel soffitto, c'erano tonfi, come se un fabbro pazzo battesse su un incudine. Uniti al suono di roccia lacerata e a quello delle sbarre di rinforzo che si spezzavano come note di chitarra stonate, al di sopra di quella cacofonia un coro di urla cresceva e diminuiva nel corridoio. Macklin sapeva che i civili a livello superiore venivano colpiti a morte. Sedeva accovacciato in un angolo, in mezzo al rumore e al caos, rendendosi conto che le onde d'urto di quel missile impazzito stavano facendo a pezzi Earth House. Dell'acqua sudice gli cadde addosso. Una tempesta di polvere e macerie franò nel corridoio. E in mezzo a essa c'era qualcosa che avrebbe potuto essere un cadavere umano maciullato. Le macerie bloccarono la porta della stanza di controllo. Qualcuno, Warner pensò, l'aveva afferrato per il braccio e tentava di tirarlo in piedi. Sentì Lombard ululare come un cane ferito. Disciplina e controllo, pensò. Disciplina e controllo. Le luci si spensero. Le ventole dell'aria esalarono un rantolo di morte. E l'istante dopo, il pavimento sotto Macklin collassò. Cadde e si sentì urlare. La sua spalla colpì una sporgenza rocciosa e poi il suolo, con una forza che gli tolse tutta l'aria dai polmoni, e interruppe il suo urlo. Nella totale oscurità, i corridoi e le stanze di Earth House stavano collassando, uno dopo l'altro. I corpi erano intrappolati e straziati tra pinze di roccia frantumata. Lastre di pietra caddero dall'alto, sfondando i pavimenti indeboliti. La melma fluiva, alta fino al ginocchio, nelle sezioni di Earth House che ancora restavano in piedi. E nell'oscurità, la gente si schiacciava a morte, lottando per una via d'uscita. Le urla, le grida e le invocazioni a Dio si mescolarono nella voce di un pandemonio infernale, e ancora le onde d'urto continuavano a colpire il monte Blue Dome, mentre collassava su se stesso, distruggendo la fortezza imprendibile scavata nelle sue viscere.